anniversario polizia il questore annuncia il suo congedo arretramento ferrovia ricci s'appella al consiglio comunale 10 milioni di interventi per quattro scuole pesaresi anche la politica si mobilita per il futuro di canile gattile tutela dei disabili pesaro studia nuove accessibilità benvenuti cari telespettatori e care telespettatrici di rossini tv per questa nuova edizione delle rossini news telegiornale di martedì 12 aprile che apriamo con le immagini che arrivano dalla prefettura di pesaro urbino dove questa mattina si è celebrato il 170esimo anniversario della polizia di stato occasione per lodi ed encomi e anche di un annuncio a sorpresa del questore di pesaro esserci sempre è il motto della polizia di stato un esserci sempre che dura da 170 anni anniversario a cifratonda che oggi nel salone metaorense della prefettura di pesaro è stato aperto e chiuso dall'inno d'italia e dall'inno la gioia europea suonati dagli alunni del liceo musicale marconi all'interno di celebrazioni tenutesi alla presenza di delegazioni di tutte le forze di polizia territoriali 170 anni di sfide continuamente rinnovate a presidio del territorio come lo stravolgimento di un ultimo biegno sul quale si è particolarmente soffermata l'enfasi del questore gli ultimi due anni come ho già detto in occasione del mio discorso sono stati due anni difficilissimi difficilissimi perché abbiamo dovuto affrontare circostanze situazioni impensabili impensabili quindi abbiamo dovuto adeguarci alle nuove esigenze collettive per garantire appunto questa questa la sicurezza di tutti i cittadini abbiamo svolto lavori diciamo io ricordo la la pasca di due anni fa due anni fa quando io la famiglia era a bologna io stavo da solo ho trascorso la giornata di pasqua da solo completamente da solo girando per la città di pesaro per verificare insieme al nostro personale carabinieri polizia il controllo del lockdown generalizzato che c'è stato in quel periodo e quel lavoro sicuramente ci ha ulteriormente formato formato perché abbiamo svolto un'attività diciamo diversa dal solito questa realtà realtà è molto come ho detto è una realtà tranquilla serena la cittadinanza ha collaborato moltissimo è una città è una provincia più che una città è una provincia laboriosa educata e anche silenziosa silenziosa un territorio che tra tre mesi il questore lascerà annunciando a sorpresa il suo concedo dal corpo di polizia i limiti e limiti d'età dirigenti superiori c'è limiti di dare 63 anni io li compio a giugno e quindi automaticamente in mezzo successivo vengo collocato come si dice in concedo illimitato illimitato mi dispiace mi dispiace perché dopo tanti anni di servizio e dopo tanti anni dedicati quotidianamente alla alla al prossimo al prossimo alla per me io ritengo che la scelta di fare il poliziotto sia una missione e quindi si termina questa missione c'è un'interruzione ecco c'è un'interruzione che spero di di affrontare il miglior modo possibile tanti i riconoscimenti tributati alla presenza del prefetto tommaso ricciardi nei confronti del personale particolarmente distintosi per operazioni di polizia giudiziaria e soccorso pubblico durante gli ultimi anni dalla promozione per meriti straordinari al vice ispettore massimo regoli agli encomi per francesco antonio greco gialluca di quilmi e simone camilli fino alle lodi assegnate a paolo bucarini marco grignieri de joanni eleonora cognigni luigi bonsignore tiziano gaggiottini giuseppe scarpa francesco marini alessandro bertolini luigi cerroni e eugenio nardelli e dopo due anni di assenza il consiglio comunale è tornato a svolgersi in presenza nella ristrutturata sala del municipio nell'occasione il sindaco ricci si è appellato al consiglio comunale per far fronte comune in funzionamento dell'arretramento ferroviario vediamo il secondo servizio dopo un 2020 trascorso da remoto e un 2021 quasi interamente in trasloco nella sala del consiglio provinciale il consiglio comunale di pesero è tornato a riunirsi in presenza nella sua sala municipale lo ha fatto approvando la variante urbanistica vallugola che apre le porte al piano spiaggia così come è arrivato l'ok al progetto di fattibilità alla cittadella dello sport di villa fastigi tramite project financing ma è stato un rientro in assise che ha guardato oltre le proprie competenze comunali ha guardato ad esempio a quell'arretramento della ferrovia su cui il sindaco ricci continua ad alzare l'attenzione su un'occasione storica che certe politiche regionali secondo il sindaco rischiano di far smarrire non a caso ricci ha convocato per giovedì gli stati generali delle infrastrutture non a caso ieri si è rivolta lo stesso consiglio comunale per lanciare un accorato appello l'alta velocità ha cambiato tutto e ciò di cui non ci rendiamo conto è che una volta che saranno completati i cantieri dell'alta velocità nella napoli bari anche coloro che vengono da milano come me che oggi hanno preso il treno per lecce non passeranno più per il versante adriano o rischieranno di non passare più nel versante adriano io vorrei che questo aspetto fosse chiaro e quindi il rischio delle marche non è che passino troppi treni il rischio delle marche è che non passi più nessuno e più treni significa più sviluppo e significa meno inquinamento sono ripeto abbastanza abilito perché è proprio stato impostato dall'assessore regionale al contrario il tema il rischio per le manche è l'isolamento e perché viene fuori questa opportunità perché quando è arrivato il pnrr nel tratto dell'abriatica bologna bari lecce non era stato messo un euro da lì si è aperto un una discussione all'interno del governo per fortuna il ministro giovanini è riuscito a convincere tra di il ministro franco a mettere 5 miliardi del bilancio dello stato sulla bologna bari non del pnrr del bilancio pluriannale dello stato e di conseguenza noi che lavoravamo su questo aspetto dal 2018 siamo stati richiamati perché c'è questa opportunità e dalla ferrovia restiamo in tema dei trasporti quello del progetto vocov drivers che ha nella cna di pesaro il riferimento italiano di un progetto europeo che ieri ha visto l'arrivo in città del ministro dei trasporti turco e di delegazioni provenienti da francia spagna germania svizzera vediamo dopo berlino e madrid ha fatto tappa ieri a fanno e pesaro voc of drivers un progetto internazionale nato per migliorare il trasporto e la logistica guidato per parte italiana dalla cna di pesaro urbino una delegazione formata da rappresentanti di spagna germania svizzera e dal ministero dei trasporti della turchia è stata accolta ieri nella sala rossa delle comune di pesaro dal presidente del consiglio comunale marco perugini e dal segretario cna morino bordoni per la penultima tappa di studio di progetti condivisi progetti che si concluderanno il prossimo mese ad ancara in turchia una bella soddisfazione per la cna di peso urbino siamo giunti al termine di un progetto biennale che ci ha visto protagonisti insieme a delegazioni della spagna della turchia della germania della svizzera per quello che riguarda la formazione professionale d'altissimo livello per i driver e per gli autisti dei veicoli commerciali in tutta europa abbiamo cercato di uniformare le regole formative e dopo questo bellissimo lavoro che stiamo disseminando adesso di due anni arriveremo a maggio ad ancara per il final event l'evento finale e per concludere questo nostro progetto che poi vedrà ognuno dei partner protagonisti nei propri paesi disseminando tutto ciò che abbiamo studiato in questo bellissimo biennio quindi una grande soddisfazione avere tutte le delegazioni qui a fano in questa due giorni che ci ha permesso di far apprezzare oltre che la nostra professionalità anche il nostro bel territorio l'ospitalità tipica italiana per quello che riguarda il trasporto internazionale molto importante parlare di infrastrutture quindi nella nostra città il tema delle infrastrutture molto attuale quindi abbiamo anche aggiornato i nostri partner europei rispetto a quello che sarà il futuro di pesaro sia per quello che riguarda infrastrutture stradali che viarie e quindi è stato un bellissimo momento che ci ha permesso anche di far conoscere non solo la nostra professionalità la nostra bella terra ma anche tutto quello che sappiamo fare davvero come economia nel nostro territorio che è molto e che sempre di più con questi progetti riusciamo a disseminare in tutta Europa 10 milioni di euro di investimento sull'edilizia scolastica e questo il risultato delle due delibere di giunta comunale approvate stamattina per lavori che interessano la scuola di Borgo Santa Maria e la primaria di via Fermi in totale sono quattro i progetti di edilizia scolastica che interessano quattro quartieri della città quello di Montegranaro Muraglia per quanto riguarda l'istituto comprensivo Leopardi che sarà interessato da lavori di manutenzione e efficientamento energetico per 600 mila euro interventi che verranno replicati anche alla Galilei di Borgo Santa Maria dove è previsto un piano da 380 mila euro Gli altri due quartieri che rientrano in questo progetto sono Soria per la realizzazione del polo dell'infanzia 0,6 anni di via Rigoni per un totale di 3,7 milioni di euro e quello di Villa San Martino per l'ampliamento e la riqualifica della struttura della media Manzoni per un costo complessivo di 5 milioni e mezzo di euro E ieri vi abbiamo mostrato un servizio relativo al futuro incerto del gattile sanitario di Pesaro Per sbloccare questo stato di precarietà è stata presentata anche un'interrogazione in consiglio comunale Il 30 di aprile scadrà la gestione della ONLUS di volontari Animalia dopo 22 anni a presidio del gattile sanitario di Pesaro o Asifelina Una scadenza che le volontarie del gattile hanno denunciato con preoccupazione a Rossini TV palesando l'incertezza su un passaggio di competenze dal comune ad Aspes preannunciato ma mai di fatto formalizzato È un'incertezza che però si allarga anche al canile e alla prospettiva di un cimitero per animali Servizi dedicati agli animali d'affezione ingarbugliatisi nella burocrazia come denunciano i consiglieri comunali di centrodestra Andrea Marchionni e Michele Redaelli che hanno protocollato un'interrogazione in consiglio comunale per ricevere risposte dall'amministrazione Quello che abbiamo fatto è stato intervenire con un'interrogazione Perché già a giugno dell'anno scorso l'amministrazione ha dichiarato che alcuni servizi importanti verranno gestiti da Aspes Questo avrebbe dovuto iniziare dall'inizio di quest'anno Ebbene sono passati già diversi mesi e ancora non si sa nulla rispetto a questi servizi Sono servizi importanti come il gattile comunale, il canile comunale e anche il cimitero degli animali Le molte persone che si rivolgono a questi luoghi e anche le associazioni che ad ora operano e gestiscono questi servizi sono in attesa che il comune decida innanzitutto e sblocchi tutte le questioni burocratiche per far ripartire questo servizio D'altronde il servizio funzionava bene, c'erano delle persone molto appassionate che garantivano un ottimo servizio Il comune ha preso una scelta diversa, adesso bisogna che la attua e si esca da questo limbo in cui le persone e il servizio non si sa che fine dovrà fare E' importante che l'amministrazione scelga subito e poi Aspes di conseguenza agisca in base a quello che l'amministrazione chiede E passiamo ora alla cronaca con la notizia della morte dell'ex macellaio di Pesaro Pierino Tonti schiacciato ieri dal suo trattore a Granarola di Gradara Il settantenne in pensione da qualche anno stava tagliando l'erba del suo giardino su un trattorino marca Grillo quando avrebbe accidentalmente colpito un ulivo con la ruota anteriore destra Il contatto con la pianta ha fatto prima impennare e poi rovesciare il mezzo schiacciandolo con un peso di tre quintali La morte di Pierino è avvenuta in seguito agli urti alla testa e al torace con il trinciaerba I carabinieri di Gabicce stanno ora cercando di ricostruire l'incidente Non è escluso che il settantenne possa aver avuto un malore vista la vastità del giardino e la stranezza che l'uomo si sia scontrato proprio contro l'albero Un principio di incendio alla discarica Casprete di Tavuglia è stato tempestivamente rilevato dalle termocamere e subito circoscritto dal personale interno e dai vigili del fuoco prontamente intervenuti L'evento si è verificato questa notte per cause in corso di accertamento nella zona di abbancamento dei rifiuti Proprio per ridurre il rischio di incendio da tempo la discarica è stata attrezzata con un sistema di termocamere in grado di rilevare immediatamente il calore anomalo Grazie alla dotazione presente il principio di incendio è stato prontamente rilevato e segnalato al personale di Marche Multiservizi reperibile e ai vigili del fuoco che l'hanno sedato sul nascere Al Comune di Pesaro arriveranno risorse puntuali per procedere in autonomia alla pulizia della foce del foglia Una novità prevista dalla Convenzione tra Comune e Regione che consentirà l'uso fino all'80% dei canoni versati dai proprietari delle banche ormeggiate lungo il foglia per la pulitura del tratto finale del corso d'acqua e di conseguenza garantire l'uscita in sicurezza delle imbarcazioni dal fiume La Convenzione segue un percorso di legge avviato dal consigliere Andrea Biancani nel 2015 e completato nel 2020 dalle firme dei consiglieri Nicola Baiocchi e Michaela Vitri Pesaro vuole essere sempre più una città inclusiva e a misura delle esigenze dei disabili e quanto emerso dalle tante proposte che lo scorso weekend hanno caratterizzato la prima edizione degli Stati Generali di Accessibilità Vediamo Pesaro si è data l'obiettivo di città sempre più accessibile ed inclusiva pronta ad abbattere le barriere culturali ancora prima di quelle architettoniche a tutela della disabilità E' quanto emerso dai tavoli di lavoro con esperti, associazioni e progetti degli studenti delle scuole superiori che hanno caratterizzato la prima edizione degli Stati Generali dell'Accessibilità tenutisi al centro pescheria e convocati sabato dal Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro Marco Perugini Una grande sfida che ho voluto portare avanti grazie alla delega del Sindaco per la redazione del PEBA ho ragionato perché Pesaro ancora si deve dotare di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche questa sfida mi ha portato a pensare anche che dovremmo cercare di tenere in considerazione una strategia molto più ampia ovvero un piano di accessibilità urbana finalmente il Comune di Pesaro si doterà di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche ma grazie al lavoro che faremo nei tavoli con la popolazione, con gli enti, con le associazioni con chi potrà dare un contributo riusciremo a restituire alla città anche un piano di accessibilità urbana capire quali sono le priorità da qui ai prossimi anni per portare avanti davvero una città inclusiva Da un anno Marusca Palazzi è stata invece nominata dal Comune come garante dei diritti della disabilità un anno in cui ha già ricevuto un centinaio di segnalazioni Sono contatti diretti oltre il centinaio e di tutti i tipi dalla persona che mi è arrivata dicendo guarda ho mio figlio che in casa non viene inserito in un centro di urno da oltre sto aspettando, sono in attesa da un anno come devo fare dalla mamma che ha partorito una bambina con trisomia 21 che vuole sapere il percorso che affronterà sua figlia Le cose che ho già cominciato sono, che ho supervisionato, la commissione PEBA questa è la cosa che mi premeva di più perché era l'urgenza più grande che aveva il Comune di Pesor per cui doveva essere commissariato e per cui questa cosa è partita il sindaco ha dato nomina al Presidente del Consiglio Comunale per dirigere questa commissione e questa commissione è partita e sono molto contenta Il gradimento a questa prima sperimentazione suggerisce già come gli stati generali dell'accessibilità possano diventare un appuntamento fisso Vorrei addirittura ripeterla ogni anno, vorrei che la settimana dal 2 aprile al 9 aprile diventasse una settimana dedicata al confronto e alla discussione sui temi della disabilità Tante altre cose, tra quelle che ho già avviato c'è anche un ragionamento su una pagina dedicata del portale del Comune di Pesaro dove vengano inserite e si trovino tutte le indicazioni che riguardano la disabilità in un linguaggio facile, accessibile per tutti perché molte delle cose che la gente è venuta a chiedere a me sono cose che fortunatamente già esistono altre vanno implementate, altre ancora invece dobbiamo ancora anche pensarle, ragionarle che creano molto disagio abbiamo famiglie in forti difficoltà e per cui su quelle dobbiamo sperimentare e inventare una nuova città E concludiamo con lo sport e con due giorni che potrebbero essere decisivi per le sorti di Vuel e Vispesaro La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, reduce dalla bella vittoria con Sassari giocherà domani alle 20.30 contro la Fortitudo Bologna la seconda di tre partite consecutive in sei giorni alla Vitri Frigo Arena Match delicatissimo perché una vittoria archiverebbe di fatto i discorsi salvezza mentre perdere complicerebbe la situazione Le aspirazioni playoff della Vispesaro passano invece giovedì alle 21 per la penultima giornata di campionato con trasferte in casa della Imolese che ha assolutamente bisogno di punti per evitare l'ultimo posto in classifica E con lo sport si conclude questa edizione di Rossini News però prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti in programma stasera infatti alle ore 21.20 è arrivata la primavera i consigli del Garden Center Florio lo speciale televisivo realizzato da Rossini TV E poi domani mercoledì 13 aprile alle ore 18 in diretta ci sarà la celebrazione eucaristica della Messa Crismale dal Duomo di Pesaro E poi restate sintonizzati sul canale di Rossini TV perché domani mattina ci sarà Buongiorno Rossini la rassegna stampa alle ore 7.20 in diretta la rassegna stampa dei giornali della provincia di Pesaro Urbino con repliche alle ore 8.20 e 12.30 e poi nel pomeriggio alle ore 14.18 E con questo si conclude questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata